Oggi è un giorno di sfida Qui in questo box stanno montando tutti gomma nuova E sto andando a montare le telecamerine Su uno che dicono che gli dia il gas Ciao belli Di nuovo a Cremona per il secondo giorno Di test qua, sempre con l'R1 Se avete visto il video precedente Sapete com'è andato, se non l'avete visto andate a vederlo Perché è una figata, sono veramente contento Io l'ho fatto 29 e mezzo, oggi si punta al 28 Cos'è questa roba appeso Al microfono E tra l'altro come avete visto ieri c'era anche il buon Mike D'Ambrosio a provare la moto di Tecnica Moto Innanzitutto grazie Sia da parte mia ma poi ci penserà Lui a ringraziarvi tutti per l'aiuto Il supporto che gli avete dato Perché davvero sia io lo che lui Non ci aspettavamo così tanto sostegno da parte vostra Ed è stato davvero qualcosa di bellissimo E anche grazie a voi ieri era qui a provare La moto di Tecnica Moto con la speranza Magari di correre con quella l'anno prossimo, chi lo sa E in realtà oggi non è solo una semplice giornata Di test invernali ma Oggi è un giorno di sfida Perché anche oggi si ripete La sfida con Mi è giunta voce che oggi c'è una sfida in corsa Una sfida interessante oggi Oggi sarà una bella giornata In realtà In realtà un cazzo Un cazzo bella Cos'è l'ho tra i denti? Dovete senti qua a ridere, divertirci Spesso i ratti? No Ieri ho fatto il corso di guida No devi aprire il ginocchio Devi tirarti su prima Devi buttarti di qua Devi andare avanti Casino È un delirio È un delirio praticamente Sono riuscito a togliere il ditino famoso Però ecco Star dietro a tutti i movimenti che devi fare in moto E soprattutto ascoltando i tuoi video I tre video con tutti i tips Diventa interessante È dura Però dai Ci divertiamo Quella cosa che conta è che ci divertiamo Però Star dietro non piace nessuno No Vabbè Gas Primo turno Gas a martello Star dietro non piace nessuno Finito il primo turno Ho rifatto 29,8 Anzi 29,7 La gomma è finita Quindi i propositi sono buoni Nel frattempo ho preso il mio zainetto Perché sto andando a montare le telecamerine Su uno che dicono che gli dia il gas Io non sono tanto convinto Dite che sia forte? Voi lo conoscete per caso? Voi sapete chi è? Voi dire Voi là Voi appena Voi appena Voi appena no man you go too fast that's my job you know yeah but it's too fast where do you cut to make 125? just over there you can't see it you're great man really I put some cameras on your bike because I want to see how a pro rider like you can make such incredible lap times and you know this is not your first time here in Cremona right? yes yeah it's my second time I was here in the beginning of season okay and I actually really like this track because it's not too long but I really like the layout you have all kind of corners you have long straight and yeah it's fantastic I enjoy riding here yeah really so what is your best overall here? I did in the beginning of season I did one 25-8 okay yesterday I did 25-9 okay so I'm not too happy that I couldn't went faster but I think you know it's quite difficult because there are many private riders here riding around you know that and to go really fast you need a couple of laps to increase you know to make the lap precise to put the right points in each corner so it's really hard if you have every lap you have traffic it's really yeah I know you have you have one lap to do everything and then it's not 100% okay so you're riding a Yamaha run right which is actually stock yeah it's quite stock you know Yard I don't know if you know T-Yard yeah they you know they prepare the bike they did it for me and actually they changed the suspension they put some different electronics to change a little bit the torque delivery of the engine but overall the power is really standard okay and if you want to give some tips for the amateur rider that ride in Cremona yeah for you what's the secret to go fast in this course in this track it's really hard to say because every you know every private rider is riding so so different so the only advice I can give is don't do what you can't do that's you know because this is really you know many many bad crashes happen especially in the amateur league so yes try just try to to get into your flow and change the things not dramatically but step by step okay so it starts from breaking points and ends of the exit from the corner so the most things amateurs do wrong is they go too fast they have too much corner speed but that's actually many times I think 60% of amateur riders are slower than me in the mid corner so I do my time on the entry and on the exit okay that's where you can get the time so probably you're slower in the mid corner than the amateurs yes but you're actually maybe five seconds faster exactly many amateurs think that you need to go faster in the corner and that's when they start to crash because they are already on the limit there but they don't have the technique to break late okay and to do a short corner with less corner speed and do a nice exit okay that's the main key cool so you say okay I want to go faster I go in in the next session and I try to improve only one thing at a time yeah but you have some video shots now from me so you can prepare yeah and maybe improve yeah get ready guys be prepared because I'm gonna make a dedicated video with a comparison between me and Folger to see how he goes that fast and you know try to learn something from him I'm getting scared thanks man don't worry I'm getting scared Sì, è stato uno dei migliori giorni della mia vita, perché ho avuto la possibilità di ride con te, era incredibile. Una cosa che diceva, prima di questa sessione, ho chiesto a lui e ho detto, ok, sto in fronte, e poi tu mi passi e vedo le line, e ho detto a lui, Tu mi passi? Ho detto, non mi passi, non mi passi, io ti passi. Mi passi a lui e ho detto, ok, sto in fronte, e poi tu mi passi, io ti passi. Non ho capito, ma hai fatto un lavoro perfetto. No, grazie. Penso che puoi vedere la differenza nel video, e non è molto difficile da imparare, quindi è solo la linea e la breaka, ma tu lo farai. Grazie mille, è stato un piacere. Ciao, ciao. Si mette male la sfida. E' dura, è dura. Devo ammettere che hai fatto grandi passi avanti. Io ho migliorato rispetto all'altra volta. Sì, tu hai fatto grandi passi avanti. Bello, però mi sto divertendo. Mi hai dato un po', un secondino, mi hai dato. Anche di più. Un secondo e sei. Ho fatto 29,6 e intanto... Beh, scusa, abbiamo tirato giù tutti e due due secondi dalla scorsa volta. Solo che tu dovevi rimanere lì, però. No, gli altri vanno avanti, il mondo va avanti. Porca misera. Però è bello, la pista oggi 22 gradi, pazzesca. Si, si sta da Dio, perfetta. Se ti guardo da dietro, proprio ti vedo che sei plastico. Come si dice? Plastico? Si. Ti muovi veramente bene, bravo. E tutto quel lavoro che ho fatto con le moto piccole, pratica, 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 sul corpo, quelle cose là. Quest'inverno moto piccole... A manetta. L'estate prossima non posso avere questo distante. Te lo dico. Va bene. Mi tirerò fuori i canini. Che cos'è quella? Una gomma. Si, che gomma è? SC0 del 2018. Sì, ma è nuova. No, 2018. Ogni anno SC1 e SC2 è diventata. Ok. Ok. Ogni anno cambia SC. Sì, esatto. L'anno prossimo SC3. Esatto. Quindi devi sbriarti a usarlo. No, devo passare quel secondino che manca. Deve rimettere in ordine le loro cose. Eh sì. Ridi, ridi. Niente, c'è guerra all'interno del team. Attriti. Mi ha dato un secondo. Ebbene sì. Bisogna ancora ripari. In questo box stanno montando tutti gomma nuova? Io perché ho bucato. Non è vero. Sì, sì, ho bucato. Sì, sì, ho bucato. Ma non è vero. Ho bucato. Ho bucato. Non cado comunque così. Una vergogna, una vergogna. Veramente una vergogna. Che stai dicendo? Niente, niente. Stavo... Perché poi il video prende tutto. Era bucato. L'ho dovuta cambiare la posta. Cioè, hai vent'anni in meno. Dammi un po' di vantaggio. Cos'hai messo? Non direi che hai messo la zero. No, lui ha messo la zero. Lui ha messo la zappa e ha messo la zero. Zappa ha messo la zero. Indecente, indecoroso. E qui cosa abbiamo? Lui ha messo la 1, la 1. Vogliamo le prove. Cambiato l'etichetta. L'ho visto, l'ho visto. Hai staccato da una 1. Ah, era la 1, era la 1. L'ho visto, l'ho visto. L'ho visto, l'ho visto. L'ho visto, l'ho visto. Ti devo fare complimenti perché hai migliorato di due secondi l'altra volta 29.6 è stata dura, io ho detto vado là, miglioro un po' così riesco a battere nasca Invece complimenti a te che vai veramente forte, sei bravo È veramente un bello stile come ho detto prima E ti devo dire una cosa però, dobbiamo trovarsi a Misano Ah per forza Perché lì ho fatto il solco Sicuramente mi suoni anche lì perché ora che ci troviamo avrei fatto altri due step Però lì me la posso giocare un po' meglio, va bene? Anno prossimo sfida a Misano appena torno al caldo la si fa Comunque sono contento perché mi sono divertito di brutto anche quando ho provato la tua moto Sì perché alla fine ci siamo scambiati le moto, le abbiamo provate La sua è tanto diversa dalla mia, sembrano uguali ma Sono 2R1 ma un'erogazione diverta, basta una centralina e poche cose tra virgolette Ma per stravolgere il comportamento Sì, vero Bello, comunque grazie André Grazie a te André Grazie alla giornata Bello Grazie per aver visto questo video come sempre E ci vediamo alla prossima sfida che non sappiamo ancora quando sarà Però sarà sicuramente divertente e questa volta arriverò ancora più preparato Anch'io Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti